segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te però nella ricostruzione fatta che mi sembra assolutamente corretta appunto abbiamo sottolineato il fatto che le immagini vere di quest'uomo ce le abbiamo risalenti a 30 anni fa sì ma avevamo quella foto però devo dire che sono stati molto sono stati molto bravi tant'è che anche ieri dai servizi perché tantissime testate la vostra ed altre ha forse una domanda legittima no dove viveva chi lo incontrava molti dicevano sì beveva il caffè l'abbiamo incontrato a fare la spesa ma nessuno identificava quell'uomo normale perché si tratta di gesti normali e quotidiani con il ricercato numero uno della mafia però le domande sono e a me ha colpito molto il sia le dichiarazioni del procuratore quella borghesia connivente perché questo è quello la prima cosa che mi colpisce sia anche quello che diceva adesso nel servizio nella ricostruzione della palermo molto bella perché la sfida oggi dice non è finita oggi inizia e diventa una sfida più difficile e allora è la risposta alla sua domanda di quella delle indagini 30 anni di arrestare un pericolo pubblico numero uno un criminale assoluto è che quella della sfida educativa della sfida culturale di un tessuto sociale dove si innesta la mafia l'andranghe dalle criminalità la criminalità organizzata cioè dove lo stato qui tante volte abbiamo discusso di reddito di cittadinanza di povertà di servizi sociali abbiamo visioni diverse ma il lumus culturale dove uno si innesta è nell'assenza di uno stato che non dà risposta ad un bisogno poi io ho una ricetta nel cui dare risposta a quel bisogno lui ne ha un'altra ma lo stato non può essere assente la terza considerazione quindi quella è la sfida vera e non a caso è la domanda è cioè come fai in un paese dove vivi a non accorgertene perché qualche connivenza ovviamente c'è stata la terza è che a me non ha colpito l'orologio elegante piuttosto che i vestiti eleganti mi ha colpito il dato che è emerso anche ieri il patrimonio di questo signore 4 miliardi di euro letto 4 miliardi di euro e questo dice per chi è stato poi in commissione antimafia al nord come al sud che la mafia l'andranghe da questo tipo di criminalità organizzata si sta organizzando in maniera diversa non è quella che abbiamo visto nei film o negli sceneggiati o nelle serie no no e lui sembra essere proprio l'annello di congiunzione tra la mafia stragista e la nuova mafia a proposito della borghesia connivente o della ramificazione è il tema di una organizzazione criminale che magari utilizza i bitcoin eolico resort commerci di vario tipo quest'era